Lei ha ripetuto più volte che non li avrebbe risostenuti, se ci dovesse essere un nuovo decreto di sicurezza in Parlamento si opporrebbe con determinazione a questa possibilità? Ma guardi è molto semplice, con grande sincerità e franchezza nel Conte 2 siamo intervenuti a modificare quei decreti di sicurezza laddove hanno dimostrato di non portare nessun risultato. Quindi il tema qual è? Attenzione, un dato che a meno sfugge, conoscendo questo argomento della materia è anche il fallimento sui rimpatri, non solo gli sbarchi sono esplosi ma i rimpatri assolutamente sono al palo. Però i rimpatri possiamo dire che sono sempre stati difficilissimi per tutti, non c'è stato governo che abbia dichiarato noi rimpatriamo con numeri diciamo molto ambiziosi e poi si riduceva a ben poco. So di che cosa stiamo parlando, però guardi nessun governo forse come questo ha chiesto il voto dei cittadini dicendo che c'aveva le formule magiche e risolutive, dal blocco navale al blocco dei rimpatri. E attenzione, la Meloni ci ha messo la sua faccia, è andata più volte in Tunisia, addirittura ha convinto la Fondelaia di andare con lei, ha cercato veramente di spendersi, non ha ottenuto nessun risultato ed è difficile che possa ottenere un risultato visto che hanno ricette che non potevano funzionare. Allora però, come Annalisa sa, la polemica più recente tra lei e il governo Meloni è quella che riguarda il super bonus che secondo la Presidente del Consiglio ha sfasciato i conti dello Stato, ha fatto venire mal di pancia al Ministro dell'Economia che ha dichiarato che tutti si sono seduti al tavolo, poi però si sono alzati senza pagare il conto che dovranno pagare loro, ovvero questo esecutivo, per 2024, 2025 e 2026, io le do solo dei numeri. Per il super bonus 110 si prevedeva una spesa di 35 miliardi, era questa la stima iniziale, adesso è di 93 miliardi.